Il programma che uso da qualche mese è Deep Dossier, è un ottimo programma tanto per la qualità delle macchine e poi la velocità di wireless di vedere le foto appena scattate che serviranno a noi come studio ma anche al paziente per rendersi conto subito della reale situazione e quindi motivare ulteriormente il paziente.